Stefano Anzalone, l'annuario Ligure dello Sport è ormai da 13 anni un punto di riferimento, una fotosintesi del movimento sportivo genovese e Ligure. Da qui ripartiamo, sono stati mesi difficili, la speranza adesso è che lo sport possa essere anche uno strumento per ripartire, per tornare a far funzionare il Paese. Desidero ringraziarti Michele per il grande lavoro che ha fatto prima tuo papà in questi anni, questa idea e poi ha lasciato un testimone che nonostante il Covid ha portato a compimento questo che è uno strumento importante per il mondo sportivo. Tante società, tante federazioni riescono grazie all'annuario ad avere delle nozioni importanti. Quindi ti ringrazio perché il Covid ha fermato il mondo sportivo, ma nonostante questo si sta ripartendo, come amministrazione stiamo lavorando tutti assieme. E allora oggi più che mai è il momento di ripartire, il Comune di Genova è stato fin da subito a disposizione, parliamo di gioco di squadra, insomma ti sei mosso con le federazioni, il CONI, le associazioni per essere subito anche da un punto di vista di informazioni a disposizione, perché insomma sono stati mesi, settimane non facili. Beh è stato veramente duro cercare di mantenere comunque un filo conduttore con le nostre società sportive, con le federazioni e devo ringraziare sempre comunque il CONI e il Comitato Paralimpico perché abbiamo lavorato assieme e ci sentivamo, cercavamo in qualche maniera di trovare un filo conduttore per dare delle risposte immediate alle nostre società. Siamo l'unica amministrazione comunale che a livello nazionale ha destinato delle risorse a fondo perduto per le nostre ASD, un piccolo contributo perché ci rendiamo conto che non potranno certo risolvere i problemi del mondo sportivo, ma per testimoniare la vicinanza. In questi momenti difficili per queste società anche avere qualcuno che ti aiuta concretamente anche nelle piccole cose è fondamentale. Come stiamo lavorando per cercare insieme al CONI e al Comitato Paralimpico di vedere le forme per prolungare le concessioni sportive ai nostri concessionari. Un grande lavoro lo sto facendo anche come città metropolitana per gli impianti natatori di tutta la provincia di Genova, quello di sospendere per due anni le fatture del pagamento dell'acqua e rispalmare insomma questo debito nei due anni successivi e quindi dare un attimo di respiro. Interventi concreti e anche qualche buona notizia. Per esempio in termini di città metropolitana non si sono fermati i progetti di rifacimento di un bel numero di palestre soprattutto scolastiche che sono un altro serbatoio fondamentale per lo sport. Sì, come città metropolitana abbiamo dato il via alla ristrutturazione di palestre scolastiche per i nostri licei e per tutta la provincia di Genova e stiamo insomma lavorando affinché a settembre i ragazzi ritornando a scuola possano trovare degli impianti nuovi, ristrutturati all'altezza soprattutto per certi licei. I licei sportivi hanno la necessità di avere delle palestre efficienti perché quella è un'area, un'aula veramente didattica per loro e quindi deve essere al meglio. La città metropolitana ha destinato veramente tempo e risorse proprio per riqualificare queste palestre scolastiche. Lo sport sta ripartendo in sicurezza quindi con massima attenzione ma con voglia insomma di ridare ai ragazzi un importante momento di aggregazione e di attività motoria. Chiaro che pensare ai grandi eventi oggi può apparire ancora prematuro però Genova nel mirino guardando un po' più avanti ha due straordinari momenti che saranno più che mai fondamentali anche per il rilancio della città da un punto di vista sportivo. Sì esatto abbiamo l'Ocean Race e poi Genova è diventata capitale europea dello sport per il 2024. Adesso stiamo lavorando affinché con gli organizzatori possiamo mantenere gli impegni su questi due anni. Alcune voci sono di spostarle anche di un anno solo ma siamo disponibili a collaborare affinché veramente questi due importanti obiettivi vengano preservati mantenuti e se possibile anche rilanciati. Un ultimo messaggio ai dirigenti sportivi e alle associazioni del territorio insomma tenere duro fare squadra. Desidero ringraziare tutte queste società che stanno facendo veramente un lavoro difficile importante e poi in questo momento così particolare della nostra vita voglio ringraziare veramente perché sono stati vicini soprattutto ai ragazzi e alle ragazze ai loro atleti e in alcuni casi ai tecnici che hanno avuto insomma uno stop importante di due o tre mesi e hanno dovuto in qualche maniera affrontare e superare questo momento di emergenza.